Un 53enne albanese questa mattina è rimasto vittima di un infortunio sul luogo di lavoro. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in un'azienda agrituristica di Gerolo Niviano, frazione di Rivergaro. L'uomo, un operaio, stava posizionando alcune lastre, quando per cause ancora da appurare, è scivolato, precipitando nel vuoto. Il volo è stato di oltre 3 metri e il lavoratore è poi precipitato al suolo, sbattendo violentemente il capo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni dipendenti dell'azienda che hanno assistito all'incidente. Dopo pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118 di Piacenza, che hanno trasportato il ferito all'ospedale cittadino. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto era presente anche una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro, per compiere ulteriori accertamenti.